... Venerdì 18 marzo, buongiorno a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con la nostra rassegna stampa. In apertura parliamo della protesta che è avvenuta a Termoli da parte degli operai della Vibac. L'azienda ha previsto la Cassa Integrazione e non chiarisce le intenzioni future. I sindacati hanno chiesto un tavolo al Mise e nell'incontro col sindaco Roberti hanno lamentato l'assenza delle istituzioni. Valentina Ciarlante. Cassa Integrazione è prorogata, accordi sindacali disdetti e lavoratori in grossa difficoltà. E' la situazione alla Vibac di Termoli che ha indotto CGL, CISL, Will e Confail a scendere in piazza Sant'Antonio nel cuore della città adriatica per lamentare uno stato di sofferenza che va a coendosi sempre di più e per chiedere al contempo un tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico. Operai, RSU e segreterie territoriali e regionali dei sindacati hanno proclamato lo sciopero di due ore e urlato tutto il proprio dissenso verso una politica aziendale in controtendenza con gli annunci fatti dai vertici dello stabilimento. Marcello Giuditta della CISL accusa la Vibac di voler introitare utili togliendo i soldi ai dipendenti. Ha tolto 4-6 mila euro all'anno ai lavoratori, soldi che i lavoratori guadagnano, se vanno a lavorare, se lavorano di più e se lavorano meglio. Quindi tutti collegati ad obiettivi. Però ogni 7-8 anni la Vibac vuole che gli investimenti che sono necessari si facciano con i soldi dei lavoratori. Una rappresentanza sindacale dopo il sit-in è stata ricevuta dal sindaco di Termoli, Roberti. Le istituzioni devono e possono giocare un ruolo fondamentale per Lino Zambianchi della CGL. Il messaggio dell'amministrazione ci ha convinto e ci convincerà nella misura in cui dà seguito a ciò che ha promesso. Quindi questa missiva che deve inviare di concerto con il presidente Toma deve avere uno sbocco immediato e dopo lo sbocco immediato di questa missiva noi prenderemo le nostre decisioni su come continuare la protesta o su come sospenderla in attesa di novità. I sindacati inoltre hanno denunciato la presenza di diffide da parte dell'ARPA molise circa delle criticità di natura ambientale nell'azienda. E anche in merito a questo ci sarebbe stata la volontà di realizzare un piano di adeguamento triennale, ma ad oggi non se ne vede traccia. Carlo Scarati della UIL ha chiesto una soluzione anche per evitare la tensione sociale. Alla luce delle ultime risposte aziendali che hanno prolungato ulteriormente la cassa integrazione, si è chiesto di poter ragionare su un tavolo che fa capire che ci sono delle opportunità importanti in questa area territoriale del Basso Molise. E chiaramente il sindaco e la regione possono essere il tramite per farci superare il guado. Il sindaco Roberti si è impegnato a sensibilizzare anche il governatore Toma sulla vicenda e a perorare un incontro con l'azienda. Si parla di rivedere alcuni accordi su quello che è il salario accessorio. Ci sono comunque in campo una serie di questioni già aperte in passato e che in qualche maniera si rischia di ritornare indietro con accordi già presi. E quindi anche il decidere in maniera unilaterale che quegli accordi non valgono non è che sia una cosa giusta. Sicuramente dobbiamo trovare un momento di sintesi. La politica può fare poco se non comunque trovare e mettere in campo le condizioni per far sedere tutti intorno a un tavolo e trovare la risoluzione del problema. E prima della lettura dei quotidiani diamo adesso lettura dei dati diramati dall'ASREM sul fronte al coronavirus. Ancora una vittima in Molise non ce l'ha fatta un uomo di 89 anni di acqua viva con le croce. A Cardarelli sono state ricoverate altre tre persone rispettivamente di Castelpetroso, Guardia Alfiere e Torella del Sannio a fronte di zero dimissioni. Al momento 22 degenti in ospedale, 7 in malattie infettive, 1 in terapia intensiva, 14 nel reparto anziano fragile. Intanto Draghi e Speranza hanno annunciato l'allentamento delle misure dopo lo stop allo stato d'emergenza. Ad aprile niente pass negli uffici pubblici, banche, negozi, poste e tabacchini, mascherine al chiuso obbligatorie fino al 30 aprile. E adesso i titoli dei quotidiani. Partiamo da primo piano Molise, Sanità, Sub, Commissario e 5 Stelle bloccano Papa. La nomina salta al fotofinish durante il preconsiglio dei ministri Federico. La nostra delegazione ritiene che l'Avvocato non abbia competenze specifiche. Stallo, dalle dimissioni di Tomasella, sullo sfondo l'eterna lotta tra Grillini e Toma. E sulla questione il punto, affirma del direttore Luca Colella, Sanità, Masaniello e Lamuina. Alla centropagina, giornata delle vittime Covid. Gravina, mai più impreparati il sindaco di Campobasso. Quanto accaduto? Serva da monito per riorganizzare il sistema. Il bollettino parla di un decesso, tre ricoveri, 451 contagi. Il tasso che si afferma al 18,2%. Rifiuti montagano di scarica piena. Dechirico a un passo dall'emergenza. Sul fronte pandemia, restrizioni. Dal primo maggio cade l'obbligo del Green Pass. Mentre a Dagnone, chirurgia ambulatoriale, dal 23 riapre la sala operatoria. Ucraina, rincari non solo guerra, pure cambiamenti climatici, cause ed effetti. Imprenditori a confronto al Mario Pagano. Dentro la notizia, riccia, biomasse e parco eolico. Il comitato chiama a raccolta fronte comune. Venafro, contratto di quartiere, ha segnato il primo alloggio del palazzo realizzato 20 anni fa. E per lo sport, nei tagli alti, con il calcio di Serie C, il Campobasso, un turno di squalifica a pace. Prezzi dei biglietti ridotti per gli ultimi tre match. Eccellenza, Dagnone vola, vogliamo la Serie D. I Sernia, l'appello di Traisci, alla città. Mentre per il calcio a 5 è rinviata la gara del CLN Kusmolise contro il Mirafin. Si gioca il 2 aprile. E passiamo ai quotidiani nazionali. L'apertura è sulla guerra. In Ucraina vediamo il messaggero spinta per la pace, sussidi e riforme. La doppia velocità contro la crisi, ma intanto altre bombe sui civili. La Bielorussia minaccia, diplomazie al lavoro. Oggi telefonata a Biden, Xi, Kiev. Soluzione in dieci giorni. C'è lo scetticismo però da parte dell'America. Ipotesi Roma, quale sede per firmare una tregua e poi servizi all'interno. Il reportage Merefa e Kharkiv qui nelle strade. Sangue ovunque. Terrore al Cremlino, arresti e purghe. Putin all'incubo dei tradimenti. E poi la pandemia. Pass e mascherine addio. Il primo maggio il Premier con i vaccini salvate 80 mila persone. Speranza per ora no alla quarta dose. Caro benzina, oggi dal Consiglio dei Ministri. I primi aiuti, i draghi, i tetti per il caro gas. E se serve sì ai razionamenti. Passiamo al Corriere della Sera. Anche in questo caso l'immagine è di due soldati mano per la mano a Kiev tra le macerie dei bombardamenti russi. Biden sferza Putin, assassino Kiev, accordo con Mosca possibile in dieci giorni. Alla strage, altra strage di civili. Più di cento si salvano nel teatro di Mariupol. Le idee contro, articolo di Antonio Polito. Poi l'apertura utile. E poi sul fronte pandemia. Dal primo maggio via il Green Pass. Emergenza finita, dice il Premier Draghi. Passiamo alla Repubblica. Stallo di sangue. Qui l'immagine di un carro armato avvolto dalla neve. La carcassa appunto di questo mezzo militare nella città di Kharkiv. Iniziata la quarta settimana di guerra. L'avanzata si è arenata. USA, 7 mila morti per Putin. Le purghe, chiaro segnale di difficoltà. Proseguono i bombardamenti sui civili. Kiev, accordo con Mosca possibile. Nell'arco di dieci giorni. Oggi la telefonata Biden-XI. Draghi, su gas e cibo. Nessun allarme. Non è il momento di pensare a razionamenti. I commenti. Se la Russia torna al Medioevo. Poi la sinistra antinato. Più Pilato che Marx. E passiamo al fatto quotidiano. Ecco la lista segreta delle armi all'Ucraina. L'Italia manda Stinger, bombe da mortaio, lanciatori Milan, missili, mitra obsoleti. Il ministro di Zeresky dice tregua. In dieci giorni. Russia, niente default. Troppi danni. America e Unione Europea. I derivati sul debito di Mosca. Lo possiamo vedere nei tagli alti anche l'addio al Green Pass. Via le mascherine. Contaggi su. Liberi tutti da Draghi. Il commento critico del giornale di Marco Travaglio. E adesso il sole. 24 ore. Oxe. La guerra costa. L'Unione Europea. L'1,4% di Pil. Dal neon al grano. Italia più esposta. Occorre un sostegno di bilancio definito e mirato. Inflazione da tenere a freno. In Lombardia. 310 imprese hanno sospeso l'attività per lo shock energetico. E poi al centropagina l'immagine di Zelesky al convegno. L'accusa di Zelesky alla Germania. Troppi interessi economici. Con Mosca. Oggi colloquio. Biden. XI. Draghi. Non siamo in recessione. Nessuno scostamento di bilancio. Si parla di politica economica. Nell'articolo di Trovati. E poi Covid. A fine mese. Emergenza finita. Adesso lo sport con i titoli. Della Gazzetta dello Sport. Ecco il mio Milan da sogno. Tomori. Esclusivo. L'intervista per La Rosa. E poi si parla anche di Juventus. Juve da rifare. Di Bala verso l'Addio. In lista Zaniolo. Pogba. Rudiger. E Giorginio. Allegri vuole almeno tre big. Per aprire un nuovo ciclo. E l'Inter invece pensa a Milenkovic. Assalto alla Fiorentina. Inzaghi studia il serbo. Brozovic resta in bilico. E intanto sul fronte europeo. Gasperini e Murigno. L'Italia siete voi. Nelle coppie. Restiamo in corsa. La nostra Europa vede Bogat. Che lancia l'Atalanta. E Abram che salva la Roma. In Europa League. 1-0. Della Dea. Leverkusen. E in Conference. 1-1. Al novantesimo. Col Vitesse. Oggi a Nyon. I sorteggi dei quarti. Adesso il palinzesto. Previsto per quest'oggi. Per la nostra trasmissione. Alle ore 11. Molise Sport. Viva la musica. Alle 13. 13.45 Salus TV. L'edizione del telegiornale. Alle 14.00. Con gli aggiornamenti in diretta. Nell'edizione serale delle 19.30. Alle 21.00. L'appuntamento con conto alla rovescia. Alle 23.00. L'ultima edizione del TG News. E con questo è tutto. Grazie per essere stati con noi. A tutti l'augurio. Di una buona giornata. Grazie per la visione.